Buonasera a tutti, buonasera e intanto benvenuto a Marco Pagliai, ti saluto sempre volentieri. Ciao Marco, come stai? Ciao Cristina, bene, grazie. Buonasera a tutti. Allora, stasera ci parli di un tema veramente interessante. Prima ti presento, per chi ancora non ti conoscesse, Marco Pagliai è psicologo, psicoterapeuta, ricercatore associato e docente del Centro di Terapia Strategica, diretto da Giorgio Nardone, coach e si occupa di tanti temi, tra cui anche terapia di coppia e tra l'altro mi preme sottolineare che sei coautore, insieme a Massimo Bartoletti, di un libro molto bello che si chiama Ritratti di coppia con terapeuta, la terapia breve strategica con le coppie che ho qui e lo mostro volentieri. Quindi stasera ci parli di un tema che negli ultimi tempi hai anche approfondito con questa scrittura. Allora, ci si fa spesso un po' questa domanda, che penso che chi ci ascolta possa essere interessato, quando si dovrebbe richiedere un intervento di terapia di coppia? Qual è il momento nella vita di una coppia per cui dovremmo interpellare qualcuno per farci dare una mano? Allora, questa è una risposta che deve tener conto di aspetti che sono molto personali, perché non per tutti il momento per accedere ad una terapia di coppia è lo stesso. Devo dire che in quest'ultimo periodo, innanzitutto, le richieste di consulenza, le richieste di terapia vera e propria di coppia sono aumentate. Sono aumentate probabilmente per il moltiplicarsi dei modi di stare insieme, che quindi hanno reso molto più complesso e complicato proprio la relazione. Un altro aspetto è la fluidità dei rapporti, che insomma credo sia corretto citare. Questa fluidità, questa instabilità nei rapporti, per cui molte coppie nascono, finiscono in modo molto veloce. Non credo che sia necessario vedere quello che la televisione ci propone. Insomma, basta anche proprio l'esperienza con gli amici, con le persone vicine. Un altro aspetto è anche legato al fatto che, diversamente da qualche anno fa, separarsi è diventato un pochino più facile. Certo, ci sono ancora gli aspetti economici e tante altre cose, insomma, che lo rendono complicato, però non è più quella cosa che un tempo veniva considerata un trauma. Adesso è un evento paranormativo. L'ultimo aspetto che però cito velocemente è anche legato al momento che stiamo vivendo. Il contesto nel quale siamo, questo contesto pandemico, ha influito, ha impattato in modo molto forte sulla famiglia, sulla coppia, perché, a mio avviso, per due motivi principali, poi insomma sarebbe lungo andare ad analizzarli tutti, ma i motivi principali, a mio avviso, sono legati al fatto che le restrizioni, alle quali tutti siamo stati costretti hanno portato a dover rinunciare a molte di quelle che vengono chiamate strutture dissipative. Tutti quei momenti dove si esce fuori, si deve andare a portare il figlio, poi si torna, poi c'è il breakfast, poi c'è il momento. E queste cose non ci sono più state, non così. Si è passato molto più tempo in casa, non c'era la possibilità di andare a giocare a calcetto, di fare altre attività fuori in palestra. Quindi questo ha compresso molto la coppia, facendo anche in qualche modo aumentare la conflittualità. L'altro aspetto è legato invece alla paura, all'ansia, all'angoscia che la pandemia ha portato con sé e anche questo poi ovviamente ricade sulla coppia. Allora, la terapia di coppia quindi è qualcosa che la si può richiedere, beh, direi prima di tutto quando c'è un obiettivo comune, perché se non c'è un obiettivo comune non si parla di terapia di coppia. O, se vogliamo, si parla di una terapia sulla coppia, cioè è una terapia dove si va a lavorare, ma solo con uno delle due persone, dei due partner. La terapia di coppia è quindi un mezzo, un tramite per andare a risolvere dei problemi o dei conflitti che i partner non sono più in grado di gestire da soli. I conflitti sono, direi, all'ordine del giorno in una coppia, no? Ci sono, come dire, continuamente dei motivi per dover contrattare, dover lavorare su delle cose. Anzi, è molto importante che una coppia lo sappia fare, perché molte delle coppie che arrivano in terapia, arrivano in terapia proprio perché non sanno gestire il conflitto, non sanno superare anche quel conflitto, che dovrebbe servire a costruire insieme un'organizzazione migliore, un modo migliore di stare insieme. E laddove però si arriva al punto di non riuscire più a farlo, può essere utile rivolgersi ad un terapeuta o una persona esperta che possa aiutarli, almeno per un tratto, in modo da poter poi riprendere il percorso insieme. Ecco, ma quindi, quando poi si rivolgono a un terapeuta, noi abbiamo scelto un approccio che è quello del modello di terapia breve strategica di Giorgio Nardone, appunto, come si interviene con questo approccio? Cioè, scriviamo anche un po' alle persone cosa si possono aspettare da questo tipo di intervento, ovviamente senza scendere troppo nel tecnico, non è alla sede però. Allora, ho già spoilerato in qualche modo quello che, dal mio punto di vista, è l'aspetto più importante dell'approccio strategico. L'approccio strategico lavora in modo strategico, appunto, scusa la ripetizione, proprio con la coppia e sulla coppia. Cosa intendo per intervento strategico? Intendo che non è rigida nel richiedere la presenza di entrambi i partner, ma, come dire, questo lo modula in base a quella che è la richiesta. Ci possono essere delle situazioni dove è solo uno dei due partner che avverte e percepisce il problema. E in quel caso cosa si fa? Non si fa una terapia sulla coppia? No, lo si può fare, ma si può fare solo con quella persona. Ci può essere invece anche il caso nel quale il problema è avvertito da entrambe, ma solo uno dei due è disponibile a mettersi in gioco in una terapia di coppia. Questo perché, probabilmente perché, come dire, è anche spaventato, no? Dobbiamo immaginarci che il percorso di terapia da fare davanti ad una persona che è a un estraneo, dove necessariamente verranno messe lì cose che sono intime, che attengono proprio alla parte più intima della coppia, può essere veramente molto difficile e molto di impatto. Non è raro che arrivino persone in terapia spaventate proprio da questo. Molte poi non ci arrivano laddove, come dire, la paura di dover mettere in piazza o che il partner metta fuori delle cose, dica delle cose che possono imbarazzare. Questo li porta a stare ben lontani. Allora, dicevamo, una modalità può essere quella di lavorare con una sola delle due persone e in quel caso si lavora per, potrebbe essere, promuovere il coinvolgimento dell'altro. Quindi si inizia a lavorare con uno, ma lavorando con uno si può comunque cercare di mettere in atto delle manovre che possano facilitare l'ingresso dell'altro. L'altro modo è quello di lavorare con una sola delle due persone, ma tenendo bene in considerazione che la coppia ha un sistema e quando in un sistema si cambia una cosa, tutto il sistema si riorganizza e quindi cambia. Qual è il problema però che si apre nel lavorare con una persona sola? A mio avviso il problema che si apre è dato dal fatto che con una persona sola io non ho il controllo di tutto il sistema. Io ho quel punto di vista, quella prospettiva e lavoro su quella prospettiva. e posso immaginare che cambiando con quella persona delle cose cambieranno anche nell'altra, ma non posso in qualche modo governare quel cambiamento perché non l'ho lì presente. Quindi questo in qualche modo a mio avviso limita un po' questo tipo di approccio, di modalità. Si può fare, si può fare molto, in molti casi è già sufficiente, è già abbastanza, ma laddove invece c'è la possibilità di lavorare con la coppia, quindi con tutte e due le persone, ritengo questo l'intervento quello da privilegiare. Questo è possibile nel momento in cui c'è un accordo sull'obiettivo. A volte capita che la coppia arriva insieme, uno vuole continuare, l'altro vuole chiudere e lì il lavoro di coppia nasce e muore con un incontro, ma laddove si riesce a trovare un accordo su un obiettivo, allora lì possiamo iniziare a lavorare. Il lavoro con la coppia è un lavoro, per come lo intendo io, a geometria variabile, cioè dove di nuovo strategicamente non si rimane rigidi al dobbiamo lavorare insieme, ma questo sarà, come dire, modulato in base alle fasi del percorso, a quello che si deve fare e a quelli che sono, come dire, gli obiettivi di volta in volta da seguire. Importante ricordare che, e questo è una cosa che l'approccio strategico tiene conto, il contesto della coppia è un contesto ipercomplesso, perché non è fatto soltanto dai due attori, i due partner, ma anche da tutte le persone intorno alla famiglia allargata, e l'altro aspetto importante da ricordare è il fatto che il clinico dovrà favorire il fatto di poter stare in questo ambiente, poter tirar fuori in questo ambiente tutte le cose che saranno utili a risolvere il problema e quindi far sì che sia un clima accogliente e buono. Poi si utilizzano delle strategie, dei compiti, delle cose che verranno chieste ai due partner, fra un incontro e l'altro, in modo da andare a muovere delle leve che possano portare alla risoluzione del problema. Grazie mille. Allora, quindi è stato veramente interessante ascoltarti e penso che ognuno di noi ha fatto un po' di autoanalisi sulla sua situazione per capire a che punto siamo e in alcuni casi, quando insomma si sta aspettando troppo, ricordatevi che ci si può fare aiutare anche con appunto un modello, in un approccio che è veramente efficace ed efficiente al tempo stesso. Quindi grazie davvero Marco e grazie a chi ci ha ascoltato. Se vuoi fare i tuoi saluti ti lascio qualche secondo per salutare. Grazie a tutti, grazie a te Cristina, grazie al Centro di Terapia Strategica per questa opportunità. Buona serata. Alla prossima.